Questo centro serve nel futuro, è nato per fronteggiare il Covid-19, ma già nell'ambito dell'idea della pianificazione e della costruzione per come è stato realizzato è una struttura che resterà a servizio del servizio sanitario regionale. Le forze armate americane ci hanno chiesto di visitarlo perché nella lettera di accompagnamento lo hanno definito un modello di come è stata affrontata l'emergenza. Per noi è un grande onore avere il comandante qui con noi e aver sentito quanto ha apprezzato lo sforzo che la Regione Campania ha fatto per realizzare una struttura a servizio dei cittadini ma anche, io lo abbiamo chiesto, di eventuali esigenze extra Regione Campania. Questo è un posto dove possiamo accogliere anche eventualmente cittadini americani che sono qui in Regione Campania per il lavoro e che gli standard qualitativi di questa struttura hanno certamente fatto considerare al comandante anche questa possibilità, ne siamo veramente molto orgogliosi. E' l'erogio te ne esci, è negativo, pure noi. Prof. ...of the Campania way of treating COVID patients after your visit here? The technology is impressive and what's most impressive is that you now have a singular center where the patients can get all aspects of the care to include the intensive care, radiology care, the medical care. e questo è davvero un modello che possiamo imparare. Quindi abbiamo apprezzato questa visita oggi per cui possiamo imparare da voi. È più impressionante. È impressionante di ascoltare da voi. Quindi significa che se avessi avuto un problema con i Covid-19, avessi 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 il nostro Covid-Center? Certamente avessi avessi l'eccellenza che è qui oggi, avessi 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 avessi. Il modulare è tutto molto simile, quindi il staff non ha bisogno di imparare come fare cose differente. Il corredore centrale che può essere guardato. E poi il monitor. È un modello fantastico per molti diversi aziende. Quindi è il punto di vista del Covid-19 qui? Si. 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 Si.